buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo insieme la giornata abbiamo i giornali resto del carlino corriere adriatico pagine di fano pagine di pesaro insomma un po di tutta la vollata con qualche riferimento anche regionale oggi è martedì 26 marzo 2024 e vediamo subito chi è il santo del giorno vediamo che si festeggia e santo emanuele un santo che nacque in anatolia visse nel terzo secolo ed è importante il significato del suo nome perché emanuele vuol dire dio è con noi ed è un nome che viene anche proposto per quanto riguarda il messia dio è con noi dio è sceso nella terra dio è sceso per salvare l'uomo e la salvezza poi si concretizza proprio nella nel mistero della pasqua quello che celebreremo la prossima domenica e vediamo ora le previsioni del tempo ecco vediamo che il tempo è peggiorato rispetto a ieri già stamattina qualche goccia di pioggia è caduta sulla città di fano correnti umide da sud ovest determinano un generale peggioramento su tutta la regione marche nuvolosità diffusa con precipitazioni sparse e intermittenti i venti sulle coste espireranno con una tensione media da sud est mentre nell'entroterra da nord est le temperature le temperature si sono abbassate mentre si è alzata la minima si è abbassata la massima 10 gradi la minima 14 la massima i venti li abbiamo detti il mare è piuttosto mosso e il sole il sole è sorto alle 5 e 59 e tramonterà alle 18 e 26 ci ho detto vediamo i giornali apriamo i giornali sulla pagina di fano del corriere adriatico e vediamo l'articolo di apertura di oggi è un articolo che riguarda la politica perché ieri e la lega è stata la prima forza politica che ha annunciato la lista dei suoi candidati al consiglio comunale consiglio comunale che dovrà essere rinnovato in base all'esito delle elezioni che verranno svolte il prossimo mese di giugno all'otto e il nove giugno la lista dei candidati in consiglio la lega in pole position brucia tutti ovviamente di brucia per quanto riguarda la tempistica con cui ha presentato la sua lista la presentazione insieme a ser filippi e a carloni insomma che hanno così dato l'imprimatur a tutti i nominativi che con che costituiscono appunto la lista della lega ci sono devo dire molti molti e molte new entry molti giovani e molti nomi che al momento sono sconosciuti ma che ovviamente si daranno molto da fare per promuovere se stessi ma anche per promuovere il programma che la lega vorrà proporre in alternativa al centro sinistra questa giunta ha perso tutte le occasioni ha detto carloni dunque la lega è la prima forza politica che in vista delle prossime elezioni amministrative ha presentato la lista dei propri candidati al consiglio comunale lo ha fatto ieri in una conferenza stampa che si è svolta a villa marina ebbene la curiosità ovviamente più che le dichiarazioni di carattere politico sta nel vedere chi sono i personaggi della lista ebbene sono elencati su questo articolo di spalla ora leggerli tutti sono 24 insomma la cosa diventa piuttosto lunga ma vediamo un attimo come sintetizza sempre questo argomento il resto del carlino lo vediamo qua perché lo pone lo pone nel titolo ecco la lega tra ritorni e conferme tutti chiedono solo di cambiare vabbè questo l'abbiamo visto ma vediamo che cosa dice tra le new entry l'ex consigliere comunale stefano mirisola la presidente del comitato ridatici le terme di carignano beatrice morbidoni l'ispettore di polizia in congedo luigi bonsignore che solo qualche giorno fa ha salvato la vita una giovane donna vittima di una aggressione ma anche poi studenti impiegati commercianti professionisti operatori balneari ci sono ovviamente anche delle conferme tutti coloro molti coloro che hanno fatto parte già della espressione politica della lega nelle istituzioni i vari segretari politici che sono apparsi con le loro dichiarazioni non ci sono invece due persone che hanno fatto parte del gruppo consigliare della lega in consiglio comunale dicevo ma sono loro che volontariamente non si sono ripresentati e sono marianna magrini e luigi scopelliti e quindi poi chi vuole leggere i nominativi nella loro interezza può farlo ovviamente acquistando i giornali torniamo torniamo al corriere adriatico e vediamo come la giunta ha definito l'appalto di un lavoro di cui si parla da diverso tempo ovvero la realizzazione della continuazione della pista ciclabile di viale kennedy sulle marciapiede lato pesaro di via roma tra il ponte storto e porta maggiore lì sarà realizzato un camminamento promiscuo tra pedoni e ciclisti che darà insomma una formalizzazione a quello che in pratica si svolge anche adesso perché le biciclette insomma più che percorrere la via a roma in quel punto molto molto trafficata preferiscono salire sul marciapiede magari andare con andatura ridotta insieme ai pedoni pista ciclabile il cantiere ha una ditta di teramo intitola il corriere adriatico e vediamo che l'appalto è stato vinto da una ditta che si chiama icf impresa carpenterie fondazioni di teramo come abbiamo detto con un corrispettivo di 230 mila 121 euro virgola 75 centesimi con un ribasso del 18 virgola 1 per cento per la gestione invece del bastione sangallo c'è il bando di affidamento triennale il comune deve fissare le condizioni economiche si potranno organizzare eventi previsto un bar il bastione sangallo dovrebbe essere ristrutturato c'è già un progetto progetto che ha suscitato ovviamente delle discussioni perché non tutti poi sono d'accordo nelle soluzioni proposte altri invece dicono che è una bella soluzione modo particolare c'è questa torre che dovrebbe essere realizzata all'esterno del bastione da cui parterebbe con un ponte sospeso per unire la corte bassa del bastione alla corte alta passando attraverso un ricamminamento aereo insomma una soluzione che dovrebbe unire tutto questo è veramente un una bella testimonianza dell'affano dei secoli passati che è stata che è stata diciamo così recuperata e dovrà esserlo ancora di più con questo nuovo progetto però ancora non ci sono i soldi e allora l'amministrazione comunale intanto per non renderlo una rovina chiusa in se stessa ha cominciato a proporre un appalto triennale lì anche anche in questi insomma in questi anni si sono realizzate iniziative convegni feste laboratori insomma un luogo da sfruttare per la sua bellezza soprattutto e per la sua antichità ed ora passiamo a Fossombrone a Fossombrone ci sono problemi di carattere sanitario ma non solo Fossombrone ci sono anche in diversi punti dell'entroterra notte con ambulanze senza medico in tutte le postazioni dell'entroterra tra sabato e domenica sette potes dotate di un solo autista e infermiere non c'era medico a bordo Chiara Billi di Fossombrone dice beh adesso adesso basta il servizio di emergenza urgenza anche la notte tra sabato e domenica nel turno dalle 20 alle 8 del mattino è rimasto privo di medico su tutte le postazioni dell'entroterra e se qualcuno si fosse sentito male e avesse avuto bisogno d'urgenza di un medico ebbene avrebbe dovuto fare a meno dell'assistenza necessaria le uniche ambulanze medicalizzate sono state quelle di Pesaro Fano e Urbino per il resto mezzi pronti ad intervenire solo con un autista e un infermiere tanto di cappello all'autista ma tanto di cappello anche all'infermiere però insomma il medico è estremamente necessario sono rimaste così senza questa assistenza Cagli, Fossombrone, Pergola, Urbagna, Cagli, Marotta e Sasso Corvaro insomma sono centri di particolare importanza. Un fatto di cronaca a fondo pagina aveva della droga condannato un marocchino la pena poi è stata convertita in una sanzione pecuniaria di 100 euro al mese per diversi anni per diversi mesi per un totale di 3.400 euro. Lui non ha i soldi per pagare la multa allora l'è stata rateizzata e sono stati trovati diversi quantitativi di droga sia addosso che nell'abitazione di questo uomo per cui è stata così combinata una multa che è stata l'oggetto della conversione di una condanna di carattere penale. A Monteporzio è stato scoperto un grosso ordigno risalente alla seconda guerra mondiale. È una bomba, una bomba molto molto grossa di 250 chilogrammi di peso. Pensate quanto materiale esplosivo ancora contiene questo ordigno. Ovviamente l'amministrazione comunale di Monteporzio ha subito emanato una ordinanza per la protezione delle persone e delle cose che si trovano a ridosso del luogo del rinvenimento e poi tutto si sta facendo per la rimozione e la esplosione in un luogo sicuro di questo ordigno. Veramente in questi ultimi anni i ritrovamenti di ordigni bellici sono stati molteplici a distanza di tanti tanti anni dal secondo conflitto mondiale. Pensate quante bombe hanno sganciato gli aerei dal cielo verso il nostro territorio. Vabbè, pensiamo alla Pasqua e vediamo come Pergola si organizza per così dare la più opportuna accoglienza a tutti coloro che l'andranno a visitare. In modo particolare ai camperisti c'è il solito raduno, ma un raduno ricco di appuntamenti, ricco di iniziative. L'appuntamento è per la vigilia e il giorno di Pasqua, ma già coloro che arriveranno venerdì potranno usufruire di una partecipazione alla processione suggestiva organizzata dalla Proloco per le vie del centro. Sabato mattina l'accoglienza da parte dei volontari della Proloco sarà presso l'area camper che è immersa nel bellissimo verde del parco mercatale. Nel pomeriggio la visita guidata alla città per fare scoprire la bellezza delle chiese, dei palazzi, dei luoghi più suggestivi e a Pasqua il top delle visite al Museo dei Bronzi Dorati. Insomma, una permanenza nel weekend a Pergola sarà ricca di suggestioni. Vediamo Senigallia. Senigallia è la paga cara, la squadra a cui appartiene il giocatore, figlio di quel papà che ha entrato in campo e ha malmenato l'arbitro, si tratta di una partita di basket, si tratta di un arbitro, 18 anni, picchiato, che ha avuto sette giorni di prognosi, denuncerà il papà del cestista. Vediamo come la squadra è stata punita con delle cinque giorni di squalifica del campo. Tre saranno convertite in una sanzione pecuniaria, le altre due invece dovranno essere disputate a porte chiuse. Insomma, il fatto è veramente squalificante. L'episodio grave che esempi diamo ai nostri figli intitola a questo articolo di spalla, che si riferisce sempre all'articolo di apertura. Vediamo Pesaro. Pesaro, sì, passiamo dalla regione prima di Pesaro, perché vediamo come la situazione politica di Fano viene equiparata in senso inverso però a quella di Osimo. Che cosa accade? Accade che delle coalizioni, non riuscendo a raggiungere un'intesa, un accordo tra di loro, rischiano di perdere le elezioni, secondo quanto afferma questo articolo. Però le parti, si tratta, sono invertite. A Fano in crisi è il centro-sinistra, in crisi perché non è in crisi ovviamente, perché ognuno poi è consolidato nella sua posizione e fa la sua battaglia, ma non riesce a fare un accordo tra tutte le componenti del centro e del centro-sinistra. Invece a Osimo è il centro-bestola che si trova nelle stesse condizioni e appunto si tratta di vedere, si fa un esame di quello che sta accadendo in queste due località delle Marche, mentre nelle altre parti le cose sono ben definite, ben assestate. Alle comunali di giugno il centro-destra cerca il ribaltone in due città nemiche, che sono quelle dove vige una coalizione di centro-sinistra, che sono Fano e sono Osimo. Allora, vediamo un po'. Partiamo da Osimo. La candidata Michela Glorio viene sostenuta da DEM, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista e quattro liste civiche. Decisione è quella di compattarsi presa in tempi relativamente rapidi e la sua campagna elettorale è già partita. In casa centro-destra invece, sempre a Osimo, regna il caos. dalle primarie delle liste civiche che non hanno incoronato Monica Bordini, definita la delfina di Dino Latini. E allora, parte invertita invece a Fano, dove il centro-destra è ben unito e coeso, mentre la sinistra, il centro-sinistra, è ancora diviso tra i progressisti e il centro-sinistra, vero e proprio. Insomma, una situazione che potrebbe evolversi poi nel corso della campagna elettorale. E intanto, sempre Maretta, all'interno del Partito Democratico, tra alcuni così ribelli, chiamiamoli così, con un termine che fosse un po' anche esagerato, è la segretaria Bonprezzi, la segretaria regionale del partito. Bonprezzi chiede le dimissioni di Mangialardi, che resiste, ma forse le darà. Mangialardi è il capogruppo della delegazione del PD in consiglio regionale. C'è stata poi recentemente anche una riunione a Roma con la segreteria nazionale per risolvere questa vicenda, ma evidentemente non si è risolta nel modo voluto. Voli dimezzati e a costi più alti, capolavoro della rotta su Roma, per quanto riguarda l'attività aeroportuale. E vediamo invece come a Pesaro ancora il problema di Soria acquisti banco per la cronaca. Soria adesso è ufficiale, la viabilità non si tocca, lo ha votato il Consiglio. Dalla variante urbanistica stralciata, la contestata Bretella di Via Agostini. Dunque, variante di largo tre martiri, maggioranza compatta, tranne l'astensione del faro. Tutto questo sull'emendamento che stralcia la Bretella di Via Agostini e lascia libero il lungafoglio Coboto. Ebbene, una parte di risultato è stato ottenuto appunto dai residenti che volevano che la variante non fosse approvata, quindi questo passo è stato stralciato appunto dal resto del contesto, però insomma ancora la situazione non è definita in pieno e c'è ancora chi sta alla finestra a guardare attentamente quello che accadrà. Oggi ho capito perché resterete all'opposizione, invece reagisce così il sindaco Ricci, per quanto riguarda i consiglieri di minoranza, che hanno sposato la tesi dei residenti di Soria. E dice voi protestate, protestate, date voce alle proteste, ma non definite soluzioni per risolvere appunto le cose che vengono contestate. Questa è la posizione di Ricci nei confronti appunto dell'opposizione. Maria Cecilia Hospital, beffa per Fano, forzata la compatibilità della struttura. Una dichiarazione rilasciata da Giovanni Fiorenzuolo. Giovanni Fiorenzuolo è l'ex direttore sanitario degli ospedali Marche Nord, che dice papale papale quello che sta accadendo. Siamo all'avvio del progetto autorizzativo per la realizzazione della clinica privata Villa Fastigi a Pesaro. Ebbene, una Villa Fastigi a cui vengono attribuiti dei posti letto. Posti letto che dovrebbero, non si sa ancora ben di preciso, Si teme che Villa Fastigi fa gociti i posti letto che erano stati promessi a Fano. Sarebbero i 50 posti di ortopedia che dovevano essere attribuiti alla clinica privata a Chiaruccia. Questa clinica privata a Chiaruccia non si fa perché, insomma, è stata contestata all'interno tra le forze politiche fanesi e quindi Pesaro subito, intelligentemente se l'è presa, e la farà a Villa Fastigi. Ma ora vediamo quello che dice Fiorenzuolo. Villa Fastigi, la realizzazione di una struttura ospedaliera con 4 posti letto di tetrapia intensiva. 70 posti letto destinati ad attività chirurgica. 10 posti letto ad attività medica. Blocco operatorio, poliambulatorio, diagnostica e immagini. Ebbene, tutto questo ha a margine delle promesse fatte alla città di Fano e ai precedenti accordi tra regione e comune. E quindi probabilmente, secondo Fiorenzuolo, Fano resterà a secco. Così non è, aveva detto l'assessore alla sanità, Filippo Satamardini, quando ha fatto il consiglio comunale monografico sulla sanità a Fano. Però ancora la decisione finale è in alto mare e vedremo poi che cosa accadrà. 20 anni della mia vita con la droga, ne sono uscito e voglio aiutare gli altri. La testimonianza di Alessandro Giardini, che dà appuntamento a tutti, in modo particolare ai giovani, al Parco Miralfiore. Vediamo anche la pagina di Urbino, dove si parla di una mostra importante. È stata allestita, si inaugurerà anzi il 28 marzo, proprio il giorno del compleanno del Divin Pittore al Collegio Raffaello. Verranno esposte 29 riproduzioni di capolavori di Raffaello. Capolavori che sono riprodotti in un modo veramente molto molto bello, molto esatto, molto molto puntuale. E quindi sarà un'esposizione per vedere un po' una panoramica di tutte le opere, di tutta la bellezza che è riuscito a riprodurre appunto Raffaello di Urbino. Una mostra che resterà aperta al pubblico per diverso tempo e quindi potrà essere vista. Lo spazio comunque sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 16 alle 19.00 per le scuole. Aprirà anche su prenotazione in altri orari. Ebbene, questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico. Diamo rapidamente una scorsa anche al resto del Carlino, dove l'apertura è dedicata ad un episodio di cronaca che evidenzia come un cliente in un ristorante fanese è stato malmenato dal proprietario. Bagarre al ristorante dopo la cena. Il titolare mi ha steso con un pugno, gli ha rotto il naso. La disavventura è accapitata a Fabrizio Morganti di 55 anni, un senigallese che è venuto a Fano per pranzare in un ristorante e se ne è uscito col naso fratturato e tre vertebre rotte. La prognosi è di 30 giorni e in questo articolo si racconta come è avvenuta questa aggressione. L'articolo di Spalla dà l'addio invece a Franca Olivi. Franca Olivi era la mamma dell'ex assessore Caterina del Bianco, ma anche la moglie del papà di Caterina, Palmiro del Bianco. Tutti e tre sono stati consiglieri comunali ed è stata consigliera comunale anche Franca Olivi alla quale si darà l'ultimo saluto. Franca Olivi si è spenta dopo una lunga malattia. Si darà l'ultimo saluto oggi alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Sant'Orso, il quartiere dove la famiglia abita. La Lega, questa l'abbiamo vista tra ritorni e conferme, tutti chiedono solo di cambiare, quindi passiamo ad un altro articolo. Vediamo invece una denuncia preoccupante. Il caratteristico albergo che ha dato il nome a Torrette sta crollando. Sta crollando perché vediamo che sulla sommità, sul tetto, si è aperto un buco e insomma ora piove dentro le sale. Torrette crolla il tetto dello storico albergo. La struttura appartenente a una società romagnola e simbolo della stazione balneare è sempre più integrato, nonostante i continui appelli per restaurarla. Sarebbe un bellissimo portabandiera per tutta la località balneare. E con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi come sempre appuntamento a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto, a risentirci.